Allora, ragazzi, in questo gioco dicono, dicono, che è difficile fare gullo, ok? Allora, proviamo. No. Ragazzi, dobbiamo assolutamente riprovare. Ma perché? Ma no. Ragazzi, dobbiamo assolutamente riprovare fin quando non faccio gullo. Uffa. Mannaggia. Ragazzi, è difficile, ma ci devo riuscire. No. Ma allora, ma perché? Ragazzi, ragazzi, è difficile. Ragazzi, è veramente difficile. Ma la prende sempre, questo qua. Uffa, ragazzi. Ragazzi. A perché? No. Allora. no ma che marina ragazzi sarà pure difficile ma devo riuscire a fare quello mannaggia mannaggia marina a ver che uffa uffa a ver che a ver che uffa ragazzi quale sarà il momento giusto per tirare perché se io saprei quale è il momento giusto per tirare riuscirei a fare quello allora ragazzi tutto sta a sapere qual è il momento giusto per fare per tirare e fare gullo niente c'è o tiro a destra o tiro a sinistra sta sempre a chi su cannaz grazie ultima chance perché è proprio difficile proprio cioè ragazzi anche tirando diritto sta sempre su capucchione a nanz vabbè ragazzi vi saluto ciao 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 ciao